Ragazzi torniamo alla vecchia sfida, se questo video arriverà a 8000 mi piace entro mezzanotte farò il chest opening quando uscirà la stagia notturna che dovrebbero mancare teoricamente poche settimane e se non la trovo shopperò un baule a tutti voi ma solo se arriviamo a 8000 mi piace entro mezzanotte Ragazzi la scorsa volta siamo arrivati a 7470 like ed era mezzanotte e 10 quindi per tanto così non siamo arrivati infatti io non ho iniziato a shoppare niente a nessuno perché ho detto a 8000 inizio e tutti coloro che hanno commentato avrei shoppato un baule a mia scelta Quindi ragazzi la sfida ve la rilancio basta che davvero collaborate tutti e vedrete che ho per mia sfortuna molto probabilmente ce la facciamo Partiamo subito con il video ma prima sigla Ma non perdiamoci in chiacchiera ragazzi e cominciamo subito ragazzi allora siamo qui nel profilo di Francesco Scili Intanto ragazzi vi consiglio di passare un attimino in descrizione nei commenti perché molti di questi ragazzi hanno un canale youtube quindi visto che comunque ci tengo ad aiutarvi vi lascerò qua sotto i loro link nei commenti Comunque record 4300 quindi comunque lui ha un baule costuribile che apriremo domani mi raccomando ragazzi domani alle ore 15 Anche la cura è tutto apriremo i bauli costruibili dei fan quindi mi raccomando domani alle ore 15 non mancate iscrivetevi al canale Uh ma c'è anche il baule della sfida cura Lo apriamo mi raccomando iscrivetevi domani alle ore 15 non mancate Adesso ragazzi apriamo subito questo baule 8 barbari scelti 20 goblin lanceri Poi abbiamo 31 barbari e per concludere l'epica no la rara torre bombardiere Ah peccato poteva andare decisamente meglio comunque ha già vinto la sfida cura Baule gigante e baule leggendario ovviamente saluto tutto il clan italian legend che è il clan nel quale attualmente è francesco 12 sgherri molto bene Allora abbiamo un altro baule però non so che mi sono già dimenticato li ha tutte le carte e sicuramente E troveremo un mastino perché io con i mastini ho praticamente la condanna Uh tre carte vuol dire che troverà una epica teoricamente Due arieti e epica Barile gomlin che non è malaccio vi dirò Barile gomlin che non è assolutamente malaccio quindi dai non mi lamento per lui Due gemme che fanno sempre comodo Baule gigante e baule leggendario Per tua fortuna hai già tutte le carte quindi non è che devi cercare qualcosa di preciso Che insomma è difficilissimo trovare qualcosa di preciso con un baule solo leggendario Vai gigante allora Epica subito Barile gomlin ancora hai rotto le palle Poi abbiamo 33 reti della battaglia e mancano le comuni che vediamo cos'è che troviamo Troviamo ragazzi 294 goblin normali che non so se utilizza quindi potrei andare a controllare Tantissimi goblin quasi 300 goblin Baule discreto i goblin non li usa perché ha un mazzo prettamente aereo Quindi 4.3 tra l'altro molto molto pesante Però insomma guardiamo anche le altre carte ci facciamo questo qui è un mazzo che è molto simile a quello che ho io Che sto utilizzando ora ma non vi spoilero raga Sto anche parlando fin troppo Mazzo prettamente aereo che a me sinceramente darebbe un sacco di fastidio Tanto comunque leggiamo un po' la chat ci facciamo i cazzi loro Un saluto nuovamente alla clan Italian legend Niente 45.000 Coppe totali sono sopra rispetto a noi Madonna gente 4.900 coppe raga Sono una valanga Comunque basta ragazzi parerci in chiacchiere E' tempo di aprire il bolo leggendario Perché si Purtroppo non ci sarà suspense perché lo clicco Ed ecco che troviamo un Lo stregone di ghiaccio Stregone di ghiaccio che non è malaccio E' carta abbastanza interessante E soprattutto molto molto utile contro i mazzi aerei Perché rallentando tutto il blocco di carte nemiche E' davvero una carta fortissima Con un costo di solamente 3 di desiderio Ovviamente questo lo sapete tutti Molto molto bene 3 di 4 Quindi al prossimo stregone di ghiaccio Se mai ne troverai uno Potrei portarlo a livello 3 Quindi dai Poteva andare peggio sinceramente Potevano trovare Non lo so Un drago infernale Che non usa E che nessuno usa Almeno in realtà Quando una persona usa Il drago infernale E' perché è forte a giocare a questo gioco Ve lo assicuro Perché se lo schiera E' perché sa giocare bene Con questa carta Altrimenti Non la usate Perché è difficilissima da usare Secondo profilo ragazzi Siamo qui Nell'account di Brian Brian 3418 coppe attuali Abbiamo un baule leggendario Qualche omaggio Un corona E un argento Cominciamo ad aprire I baule un po' meno interessanti 91 di oro Poi abbiamo due gemme Quindi niente epica per lui Procediamo con la cura Ha trovato la cura Nel baule omaggio E per finire 11 cavalieri Bel baule omaggio Bel baule omaggio Io la cura purtroppo Non l'ho ancora sbloccata Ma la sbloccherò Dai sicuramente Comunque Se non dovessi farcela Per non so Motivi misteriosi Non è un problema Perché comunque La troverò Essendo una carta rara Ragazzi la troverò Cioè non devo smattarmi Per trovarla Due lapidi Ok ragazzi Direi che possiamo procedere Accelerando un po' i ritmi Perché ragazzi Effettivamente Se no stiamo qui fino a notte Però mi piace parlare Ci avete fatto caso Non amo fare dei video Che non hanno contenuto Però acceleriamo un po' Ragazzi Perché se no ci addormentiamo 69 carte Su 72 Stradone elettrico Tronco E mago di ghiaccio Nel mazzo Gli manca Fuori leggeminatore cimitero E ci sta Addirittura Qualche leggendaria 2 Quindi ha messo abbastanza bene Devo dire Cura a livello 3 Già Perché è arrivato a 6 vittorie Quindi riuscita a potenziarla Fino a livello 3 Lo stregone c'era a livello 2 Quindi dai Tutto sommato Trovargli viene un altro A lui non sarebbe male Così lo potrebbe portare Quasi a 3 8 dieti 56 barbari scelti E una veleno Una veleno Va bene dai Una veleno che non è assicuramente male Sono anche buoni 50 Rotti Barbari scelti Che io utilizzo Vavo Li utilizzavo nel mio vecchio mazzo Bisogna trovare assolutamente Un tronco O uno stregone Elettrico Secondo me Sarebbero due carte Che Brian Dovresti utilizzare Se potenziate Perché sono davvero incredibili Record E' in record E' in record attuale 3418 Quindi assolutamente piano Perché sto giocando qui E' strano Ogni volta che sei in record Rischi Rischi di prendere schiafi Quindi gioca con calma Mi raccomando Fai una partita ogni settimana Così la vinci sicuramente E vai e arrivi a 4000 Senza problemi Comunque ragazzi E' tempo di leggendario Quindi cominciamo a scaldare L'altra mano Nel frattempo Guardiamo un attimino Dove cazzo sto cliccando Perché? Dicevo Andiamo sul baule leggendario E troviamo Un drago infernale Non ci credo L'ho detto prima Che il drago infernale E' una carta che utilizzano in pochi Che è difficile da utilizzare Chi la utilizza Perché generalmente Conosce Questa truppa Molto molto bene Sa Che è molto semplice Da fermare Però Una volta arrivata sotto torre Con un tank davanti Diventa Micidiale Peccato Perché non la utilizza Però vabbè Mi hanno trovato questa Amen Non è che ci dobbiamo disperare Passiamo Al terzo profilo ragazzi E speriamo di trovare Qualche leggendario Che magari utilizza Perché sarebbe anche l'ora Terzo profilo ragazzi Siamo qui nel profilo di Ready E punto di domanda Lost Che è bellissimo Perché vuol dire Pronto? Perdi Cioè perdita Perdi Di qualsiasi arena Non ha leggendarie Non ha leggendarie Quindi ragazzi Troveremo la prima Leggendaria Io vi dico solo che Le leggendarie con maggior Drop rate Quindi con il maggior La maggior possibilità Di uscita Sono Oh guardia Sbloccate Il mastino E il droga infernale E anche la scintilla Sono tre Fra le leggendarie Che si trovano più spesso Nei bauli leggendari Quindi Spero di no Perché Mi piacerebbe Trovargli Non so La fuorilegge Il mago di ghiaccio La principessa E Il boscaiolo Per esempio Sarebbe un'ottima carta da trovare Sono un po' di carte Il tronco Un po' di carte Che se dovessi trovare Gli cambierei Totalmente Il mazzo Perché ragazzi Con una tronco in più Si svolta il gioco Nel partempo Abbiamo bauli stupidi Perché troviamo due carte Due fornacci Uno scheletro da uno Due cavalieri Cioè roba Abbastanza inutile Possiamo dirlo Tranquillamente Adesso ragazzi Andiamo ad aprire Il nostro baule gigante Con la speranza Di trovare qualcosa di interessante Perché sarebbe figo Troviamo la leggendaria Sia qui Che nel baule leggendario Ma non capiterà mai Perché la sfortuna È tanta E poi ci vuole un culo Davvero tipo Nicki Minaj Una roba imbarazzante Ci vuole 1.3 di oro 9 fornacci Dovrebbero mangiare Un po' poche le rare Infatti 14 sferi focate Che vorrei trovare io E 209 goblin Sferi focate Che mi piacerebbe Un sacco trovare Specialmente perché Chi la sta per portare A 9 o al 10 Praticamente Nel proprio clan Tutti chiedono Sferi focate E tutti Se le autodonano Oppure Nessuno ne le dona E questo è un altro problema Vi ricordo ragazzi Che veramente Se volete Di passare Nel mio clan Il mio clan Si chiama Piazza Non lo gestisco io Ho solo il nome mio Perché non ho il tempo Di farlo Ragazzi Andiamo ad aprire Il baule Leggendario di Ready Lost Speriamo di trovare Una cosa interessante Perché vabbè A prescita di lui Va bene tutto Troviamo Un Mastino Labico Abbiamo ragazzi La condanna a morte Del Mastino Abbiamo ragazzi La condanna del Mastino C'è poco da fare Sto Mastino È proprio È proprio Sempre 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 Mastino È una carta Con un drop rate Troppo alto Davvero È imbarazzante Ragazzi Si trovano sempre Mastini nei bauli O molto probabilmente Si trovano Mastini Non è una brutta carta Anzi è molto forte Chi la usa generalmente Come il dragone infernale È perché sa usarla bene Ma no Lo stesso Ragazzi Non è di grave Perché abbiamo ancora L'ultimo baule Leggendario da aprire Vamos Ragazzi Siamo qui Nell'ultimo profilo Siamo qui Nell'account di Acaboso Del clan Bella Zio Zia Ok ci sta Ragazzi Allora Alla principessa Nel mazzo Mi sembra E gli mancano Fuorilegge Drogue infernale E cimitero Che sono carte che Cimitero e fuorilegge Con un drop rate Molto basso Mentre droghe infernale Fin troppo alto Principessa Nello shop La principessa La usi Quindi puoi cominciare A pensare di shoppartela Se riesci Però Ti servono ancora Un bel po' di monetine Quindi insomma 25.000 monetine Non sono poche 25.000 di oro E tanta roba 3.500 di record Quindi sei un po' sotto Però questo gioco qui È un po' così Si sale e si scende Si sale e si scende Purtroppo è così Andiamo ad aprire ragazzi Subito Il primo dei due Mi sembra Ne ha due Boulio Maggio O ci vedo male Due Boulio Maggio Quindi ritiriamo via Abbastanza rapidamente Perché A meno che non viene giù Gesù e la Madonna Non troverà niente qua Non ho mai trovato niente Voi invece ragazzi Avete mai trovato Legionario nel Boulio Maggio Non me lo scrivete Nei commenti Perché vi banno Perché mi incazzo No comunque Doniamo la furia Che domenica epica è Senza epic Quindi chiediamo Una mongolfiera A caso Decidiamo Tanto le usa ragazzi Quindi facciamo solo Che un favore Almeno non spreca Non spreca la richiesta Ragazzi Ma un leggendario è per noi Per lui Lo apro io Ma in realtà è per lui Prepariamoci Psicologicamente A trovare qualcosa Che non ha Quindi cimitare La droga infernale E fuorilegge Come sempre A tutti manca la fuorilegge A parte A tutti quelli a cui Ho avuto la buona Prima Troviamo Un Mastibasta Basta Mastino Anche se comunque Dicevo poco fa La fuorilegge C'erano tutti Quando mi era passato il profilo Lo scorso video Avevate tutti E dico tutti La fuorilegge Quindi io vi odio Con tutto il mio cuore Perché io non la trovo mai E voi invece ne avevate Anche il livello 2 Ho visto Io non vedo Come cazzo è possibile Peccato ragazzi Questo Mastino Ragazzi ci perseguita Ci perseguita Però il suo dropperito È troppo alto Rispetto alle altre carte Davvero un peccato Perché magari non lo usa Però comincia a utilizzarlo Perché insomma Comincia anche a essere Bastante interessante Ragazzi Io direi che vi posso Anche salutare E ringraziare Sotto questo profilo Perché abbiamo già aperto Ben 4 bauli Leggendari Noi ci vediamo domani Alle ore 15 Perché apriamo ben 4 bauli costruibili Non vi dico nient'altro Vi saluto e vi ringrazio Da Piazza è tutto Un saluto e ciao